Atomi, lettere dell'alfabeto con gli atomi, costruisco delle molecole con le lettere dell'alfabeto, costruisco delle parole. Va bene o no? E' chiaro a tutti? Quando io ho costruito una parola o una costruzione dell'alfabeto, che cosa posso fare? Posso, dicevo un modellino lengo, posso prendere i mattoncini, posso prendere le lettere dell'alfabeto e smontarle. Capito bene o no? E' chiaro? Smontandole i mattoncini non vengono né consumati, quindi la loro massa non viene né ridotta né aumentata. Va bene? Adesso che cosa facciamo? Vediamo brevemente il passaggio successivo, ripassiamolo perché l'abbiamo già fatto. E cioè, modello atomico di Thomson e modello atomico di Rutherford. Modello atomico di Thomson significa questo. Prima di tutto significa andare dentro l'atomo e non vedere più l'atomo come qualcosa di utile. Come ha potuto fare questo Thomson? Sfruttando che cosa? Le proprietà, diciamo, di studi sull'elettricità. Studi sull'elettricità. Hanno avuto, cominciati con lo studio sullo stoffinio eccetera, generazione delle cariche elettriche mediate stoffinio, ma l'aspetto importante è quando è che è avvenuto? Quando hanno cominciato a usare, quando l'altra volta si è potuta utilizzare la pila. Va bene? Pila. Due elettriche. Negativo e positivo. Qui che cosa abbiamo all'interno? Collegato i due elettriche della pila con due sbarai. Qui all'interno che cosa abbiamo? Quello che si chiama un campo elettrico. Va bene? Campo elettrico. Che cosa significa? Che all'interno noi abbiamo, se ci fossero delle cariche, queste cariche si possono spostare sotto l'effetto del campo elettrico. Come si sposteranno le cariche? Una carica eventualmente positiva si sposterà da questa parte e una carica negativa si sposterà in girazione opposta. I raggi catodici che sono poi la base di che cosa? Della televisione, del vecchio modello televisivo, come funzionavano? Noi avevamo inserito le due piastre dentro un'ampolla di letto, è stato fatto ruoto e si è infilato un gas a bassa pressione e quando il gas era sufficientemente, la pressione era sufficientemente bassa, si è formata una striccia colorata. Questa striccia colorata era formata da particelle che correvano, che si muovevano molto velocemente. Che tipo di piastre, che tipo di particelle si spostavano? Allora, per capirlo, veniva applicato un campo magnetico e si vedeva la deflessione. Ci sono un sacco di filmati che illustrano questo sulla rete. Quindi, applicando un campo magnetico, che cosa avete? Questa striscia viene deflessa. Attraverso la deflessione, lo vedrete l'anno prossimo, che cosa si riesce a capire? Si riesce a capire il tipo di carica che si muove. Il tipo di carica che si muoveva, l'aveva scoperto. Thompson, che cariche erano? Cariche negative. Da cosa erano sederate queste cariche negative? Voi avevate degli atomi allo stato gassoso, mi sembra che nell'esperimento dei vasi catodici fosse stato usato dell'atom e questo atomo a bassa pressione sotto l'effetto del campo elettrico formava due specie, armi positivo e armi che automaticamente liberava un tipo di particella con carica negativa. Va bene? Quello che si vedeva, e cosa era? La striscia dovuta alla particella con carica negativa. E ovviamente le particelle con carica negativa si muovevano in questa direzione. Ci sono anche gli ioni di segno opposto che si muovono in direzione semplicemente opposta però producono della luce anch'esse ma la luce che producono non è luce visibile e quindi rientra nel campo della luce non visibile che potrebbe essere ultravioletto o infrarossa e quindi non si riesce a vedere a occhio nudo attraverso questo esperimento. Va bene o no? Allora questo esperimento che cosa evidenzia? Che già l'atomo non è formato da due parti ma è formato, non è un unico pezzo ma all'interno senza altro esiste un tipo di particella negativa con carica negativa. Va bene? Nel recupero io avevo dato anche un elenco delle caratteristiche sia della massa sia della carica. Studiatelo, ripassatelo velocemente perché è possibile che ve lo chieda. Va bene? Una volta che abbiamo avuto queste informazioni cioè che ci sono delle particelle con carica negativa all'interno non avendo l'esperimento, non avendo Thomson, altri dati per costruire il modello atomico che cosa ha sfruttato? Ha sfruttato solo il ragionamento. Va bene? Il ragionamento quale potrebbe essere? Si basa su due regole massimizzazione della trazione minimizzazione della repulsione queste particelle negative che si trovano dentro l'atomo avendo lo stesso segno come dovevano essere? Il più distante possibile tra di loro per darsi poco fastidio. La carica positiva non essendo stata evidenziata dove doveva essere? Secondo Thomson era il modello atomico era un atomo pieno di carica positiva e le cariche negative sparpagliate all'interno. il campo elettrico staccava queste cariche negative e le metteva in movimento come abbiamo visto. Avete capito bene? Quindi cominciamo con il modello atomico di Thomson a vedere quello che c'è dentro l'atomo ma non abbiamo altre informazioni. il modello atomico dov'è che sbaglia? Nel posizionamento delle particelle ma perché sbaglia? Perché come vi avevo già detto il posizionamento delle particelle non deriva dalla da un esperimento ma derivano dal ragionamento e quindi il ragionamento è stato per quanto intelligente elegante quello che volete è stato sbagliato. E' chiaro? per capire come salta fuori il modello atomico successivo bisogna passare all'atterford che aveva a sua disposizione gli studi dei codici che orì per quanto riguarda la radioattività. Radioattività significa emissione di raggi. La radioattività può essere di tre tipi raggi alfa raggi beta raggi gamma. io sto parlando della radioattività naturale va bene? Allora queste sostanze naturali emettono di loro iniziativa delle particelle appunto le particelle alfa gamma o beta ha utilizzato un materiale mi sembra che fosse l'uranio 236 e questo materiale che cosa aveva? aveva emetteva le particelle alfa e le particelle alfa che cosa sono? sono abbiamo particelle positive tenute assieme le due particelle con carica neutra va bene? questo che cosa corrisponde? corrisponde a quello che si chiama il nucleo del legio quindi se vogliamo l'uranio 236 che cosa spegne questi nuclei di legio chiaro a tutti? perché fa questo l'uranio 236 lo fa per un motivo molto semplice che per diciamo per ragioni che coinvolgono quella che si chiama la fisica nucleare che però non riguarda la chimica quindi noi prendiamo questo come dato di fatto usiamo la radioattività alfa senza cercare di spiegarla va bene? allora l'esperimento in sé per sé è stato abbastanza semplice camera di piombo perché il piombo non fa passare le variazioni e attraverso la camera di piombo voi avete un foro molto sottile qui il materiale radioattivo il foro che cosa fa? permette di collimare i raggi alfa come se si muovesse una retta una semiretta giusto foro piccolo poi abbiamo un rivelatore al tempo di rata il rivelatore elettronico non esisteva che cosa è stato utilizzato una lastra fotografica nel primato vi invito a rivedere che cosa è stato utilizzato invece un rivelatore elettronico che si muove in attorno e che registrava automaticamente le radiazioni emesse va bene? quindi ha inserito una lamina d'oro e nel percorso dei raggi la lamina d'oro perché è stata scelta? perché l'oro è uno dei materiali più maleabili che ci sia quindi si poteva avere una lastra estremamente un filo una lamina estremamente sottile va bene? a questo punto esaminando che cosa succedeva quando arrivavano la lamina d'oro quando le radiazioni arrivavano sulla lamina d'oro ha notato alcune cose caratteristiche che dovete sapere bene il primo aspetto è se noi avessimo avuto il modello atomico di Thomson che cosa doveva succedere? la prima caratteristica del modello atomico di Thomson qual è? l'omogeneità quindi la particella alfa carica positivamente che cosa avrebbe dovuto fare? passare attraverso eventualmente rompere la lamina ma deviare in pochissimo po' piccole deviazioni è chiaro o no? perché piccole deviazioni? perché all'interno che cosa ho? la carica positiva e la carica negativa mescolate assieme la carica positiva passando in mezzo viene attratta sia dai positivi dalle cariche positive sia dalle cariche negative la deviazione dovrebbe essere minima giusto? quindi se il modello atomico fosse stato vero avremmo avuto primo la rottura della lamina perché le particelle passano attraverso giusto? secondo deviazione piccolissima dei vasi invece che cosa trova? trova due risultati sorprendenti e nello stesso tempo antitetici i due risultati sorprendenti sono prima di tutto che quasi tutte le radiazioni passano secondo che pochissime radiazioni vengono deflesse con un angolo molto grande quelle che vengono questo tipo di deflessione viene definita come deflessione a grandi angoli sperimentalmente ha incaricato i suoi due assistenti di svolgere di misurare questa deflessione a grandi angoli e ha costruito un grafico di questo tipo sull'asse delle y ha misurato il numero di partizielle deflesse poi nell'articolo originale ha messo il logaritmo ma questi sono dettagli quello che conta è sull'asse delle y che cosa ha misurato il numero di partizielle deflesse sull'asse y ha misurato l'angolo avete capito? questo che cos'è questo tipo di grafico questo tipo di grafico quindi ho detto numero di partizielle e qui che cosa abbiamo angoli di deflessione e quella che si definisce l'impronta digitale del tipo di urto avete capito? a seconda del tipo di urto abbiamo visto nel filmato alcune possibilità urto tra magneti urto tra cariche oppure urto tra sfere e visite a seconda del tipo di urto cambia la forma di questo tipo di grafico in particolare se noi lanciamo delle partizielle con un tipo di cariche la curva è di questo tipo avremo quindi avremo quindi avremo quindi che cosa partizielle avremo quindi diversi tipi di grafico se l'urto è tra sfere rigide il tipo di grafico è di questo tipo più o meno se l'urto è tra sfere cariche di se lo stesso segno che si respingono noi che cosa abbiamo abbiamo una curva di questo tipo siamo tutti d'accordo raccogliendo i dati sui assistenti che cosa hanno fatto citiamoli almeno perché il merito di quello che hanno fatto anche loro Marston e Geiger quello che poi è portato allo studio dei rivelatori contattori Geiger e a Fini dicevo i dati registrati da questi due collaboratori che cosa facevano si adattavano questo tipo di curva quindi la particella alfa che cosa faceva si ruotava contro una zona centrale dell'atomo che chiamiamo nucleo e questa zona centrale che cosa deve avere la carica positiva il ragionamento mi sembra nonostante il baccano che fate e la distrazione che mi fate avere mi sembra di averlo sviluppato in modo corretto ci sono domande su questo no? no? allora abbiamo visto la carica positiva non è spavagliata tutta dentro l'atomo siamo tutti d'accordo? localizzata nella zona centrale se noi immaginiamo l'atomo come una sfera va bene la zona centrale come anche una sfera più piccola all'interno ci sono tre quattro ordini di grandezza tra la zona l'atomo vero e proprio e la zona centrale tra la zona centrale e tutto il resto dell'atomo voi che cosa avete? quello che si definisce uno spazio immensamente vuoto lo spazio vuoto in questo spazio vuoto che cosa si trovano? gli elettroni possono stare fermi gli elettroni quindi nucleo con carica positiva spazio vuoto tutto attorno possono stare gli elettroni fermi? assolutamente non possono prima di tutto devono essere sparpagliati perché devono essere sparpagliati? perché se una particella passa qui in mezzo e gli elettroni fossero localizzati in una zona esattamente come sono localizzate le cariche positive che cosa dovrebbe succedere? non dovrebbe esserci solo la repulsione della particella ma dovrebbe esserci anche la trazione delle cariche negative giusto o no? ma visto che le cariche negative non le vedo che cosa vuoi? perché non le vedo? perché se sono sparpagliate la carica positiva le cariche alfa viene attirata sia da questo elettrone sia da questo elettrone gli effetti degli elettroni si annullano e chiamano invece la carica positiva essendo localizzata in un punto l'effetto che produce non può essere annullato giusto? quindi ricapitoliamo le cariche positive a centro in una zona molto piccola molto 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 tre almeno quattro volte dovrei dire piccola poi tutto attorno nello spazio enorme vuoto attorno che cosa abbiamo? gli elettroni non possono stare fermi e devono essere in movimento questi sono i dati dell'esperimento quando è che sbaglia? Rutherford esattamente come quando sbagliava Thomson in un caso molto quando è che sbaglia? quando aggiungono delle descrizioni che l'esperimento non è noi sappiamo che gli elettroni devono essere in movimento non dice l'esperimento il tipo di movimento perché devono essere in movimento? perché se fossero sparpagliati tutti attorno e se fossero fermi cadrebbero sul nucleo giusto o no? esattamente come la terra non viene attirata ma non cade sul sole perché? perché la terra ha il suo movimento giusto o no? gli elettroni quindi devono essere sparpagliati e di conseguenza come devono essere in movimento queste sono le informazioni che l'esperimento dà dov'è che sbaglia Rutherford quando lui di sua iniziativa dice qual è il tipo di movimento qual è il tipo di movimento? basandosi sul fatto che il primo successo grande nella fisica di Newton è stato il movimento dei pianeti automaticamente viene spontaneo è venuto spontaneo la Rutherford a dire gli elettroni attorno al nucleo come si muovono? si muovono come i pianeti attorno al sole va bene o no? è chiaro? il problema però in cosa consiste? a parte ci sono due differenze tra e dicevo da questo nasce quello che si chiama modello atomico di Rutherford siamo tutti d'accordo? domande? a questo punto voi che cosa avete? esaminiamo perché il modello atomico di Rutherford non va bene ci sono due differenze tra il sistema solare il macrocosmo e invece il modello atomico cioè il microcosmo va bene? beh la prima differenza potreste dire è ovvia noi abbiamo qualcosa di enormemente grande da una parte qualcosa di enormemente piccolo dall'altra ma non è questo quello che conta quello che conta è la trazione quando voi avete a rete gli pianeti che si muovono attorno al sole la trazione è dovuta alle masse quando voi invece avete gli elettroni attorno al nucleo la trazione è dovuta alla carica quando ci sono le cariche in movimento questo diciamo che è stato introdotto da una grande mente morta in me giovane Maxwell che cosa dice quando ci sono le cariche non quando ci sono altri oggetti in movimento quando ci sono le cariche in movimento non qualsiasi tipo di movimento ma il movimento più esattamente il movimento accelerato capito? quando è che è un movimento accelerato? basta dire quando non è accelerato il movimento che non è accelerato che cosa è? il moto rettilineo uniforme capito? un oggetto che cade non è moto rettilineo uniforme un oggetto che gira non è moto rettilineo uniforme è chiaro? moto rettilineo uniforme significa due condizioni che devono essere rispettate contemporaneamente traiettoria rettilinea e sempre con la stessa velocità va bene? quindi quando abbiamo un oggetto che si muove di moto rettilineo uniforme non è accelerato e se l'oggetto porta della carica non c'è nessun effetto particolare ma se il movimento è accelerato ed è una carica che si muove di moto accelerato che è questa carica che cosa tende a generare? onde elettromagnetiche il termine è complesso ma il significato è abbastanza enorme ed è un fenomeno che tutti conosciamo le onde elettromagnetiche che cosa sono? sono la luce capito bene o no? è chiaro? quindi quando noi abbiamo la luce abbiamo un tipo di energia se noi avessimo e se il modello atomico di Vatria fosse esatto gli elettroni in movimento che cosa dovrebbe fare? emettere della luce emettendo della luce fare dei giri sempre più stretti perché perde velocità e alla fine cadere sul luce gli effetti previsti se il modello atomico fosse virato fosse vero sono due cosa che è sotto gli occhi di tutti condizioni che non si realizzano e cioè tutto dovrebbe mettere luce perché tutto quello che è fatto di Atomi dovrebbe mettere luce e tutto dovrebbe diventare sempre più piccolo è chiaro o no? questo mi sembra che sia smentito ed è che sia sotto gli occhi di tutti quindi da questo momento in poi che cosa subentra? subentra il ragionamento di Bohr e con Bohr comincia la meccanica quantistica Rutherford fino a quando va con Rutherford che cosa si segue? la meccanica classica dopo Bohr comincia questa nuova meccanica l'aspetto negativo di Bohr anche se Bohr non rientra nel recupero in cosa consiste? nell'aver non aver abbandonato completamente la meccanica classica e aver solo indicato la strada vi avevo detto metà alcuni termini alcuni concetti sono tipici della meccanica classica anche nel modello atomico di Bohr avete capito bene questo? sì o no? ripassiamo ancora un ultimo dettaglio assieme al modello atomico di Rutherford mettiamo l'esperimento velocemente non si può stare benissimo l'esperimento che ha fatto Mulliken perché Thomson che cosa aveva individuato? Thomson era riuscito a individuare l'esistenza di queste particelle di elettroni che cosa ha fatto? Mulliken è stato capace di misurarne anche la carica attraverso un esperimento geniale quello che non è un teorico ma è uno sperimentale e vorrei che voi sappiate abbiate capito questo tipo di esperimento che ha fatto avere parlando il premio 9 allora creazione prima di tutto anche in questo caso campo elettrico campo elettrico collegato da una pila meglio un generatore io posso un generatore con una manopola io che cosa posso fare? posso cambiare la quantità di carica che va sulle piastre va bene? la piastra superiore è la carica positiva la piastra inferiore è la carica negativa va bene? all'interno di questo spazio voi avete due campi che sono presenti contemporaneamente cioè agiscono due forze un campo che cosa sarà? il campo gravitazionale che tende a far scendere gli oggetti l'altro campo che cosa sarà? il campo elettrico state attenti che questo io vi chiedo la descrizione ma il mio collega di fisica quando parla dell'elettricità cioè l'anno prossimo di questo di questo di questo esempio vi farà fare dei calcoli su cui ci sono anche mi sembra degli esercizi nei compiti scritti che lui ha quindi cercate di capirlo subito noi che cosa abbiamo? se prima di tutto l'elettrone riusciamo a vederlo scordiamocelo va bene? è necessario avere un elettrone ma messo su un oggetto che riusciamo a vedere per fare questo che cosa utilizzate? un nebulizzatore nebulizzatore che cos'è? aveva dell'olio esattamente quello i nebulizzatori dove si usano normalmente dei motori diesel il compito dei nebulizzatori lo dice la parola è fare delle goccioline molto piccole nei motori diesel perché è fondamentale nel motore scoppio motore a benzina che cosa brucia? dentro il pistone il vapore di benzina è chiaro? mescolati all'ossigeno invece nel motore di diesel che avendo il gasolio il gasolio ha una tensione di vapore cioè ha una tendenza a passare allo stato di vapore molto molto minore che la benzina quindi non posso sperare di avere i vapore di gasolio giusto? per avere qualcosa che assomiglia ai vapore di gasolio che cosa devo fare? una pompa che spinge il gasolio dentro questi nebulizzatori che iniettano il gasolio dentro il pistone sotto forma di goccioline molto fide ed è quello che in pratica ha usato la mia vita il nebulizzatore ha però non tante goccioline quello che conta ha inserito una gocciolina la gocciolina è un microscopio un microscopio ottico riesco a vederla va bene? però la gocciolina sto finandosi contro le pareti dell'uccello che cosa ha fatto? ha prodotto ha catturato un elettrone quindi l'elettrone non lo vedo ma la gocciolina si la gocciolina che tendenza avrebbe per quanto riguarda la gravità a scendere per quanto riguarda il campo elettrico a salire è chiaro? se vince la forza di gravità la gocciolina scende se vince il campo elettrico la gocciolina che cosa farà? sa regolarlo la forza il campo elettrico ovviamente il campo gravitazionale non lo posso cambiare regolando il campo elettrico io posso arrivare ad una situazione in cui la gocciolina è perfettamente bilanciata e sta esattamente ferma va bene? a questo punto che cosa farò? vi ricordo che ho due forze eguagliando le formule che descrivono queste due forze le formule quale sono? massa della gocciolina per la sua gravità uguale che cosa deve essere? la carica per il campo elettrico del campo elettrico lo leggo attraverso la manopola che mi comanda la carica che mi invio sulle due lastre in conica qual è? questa la quantità di carica della gocciolina giusto o no? G lo conosciamo l'unico problema qual è? scusate non la carica elettrica della gocciolina la carica elettrica della gocciolina perché c'è l'elettrone giusto? M è la massa della gocciolina chiaramente una gocciolina non la posso pesare ma vi ricordo che con il microscopio ottico qual è stata la possibilità? di fare una fotografia della gocciolina giusto o no? avendo una fotografia della gocciolina immaginando finché non è un'approssimazione più che lesita che la gocciolina sia di dimensione sferica perfettamente sferica misuro attraverso l'ingrandimento della fotografia il diametro riesco ad avere un'idea riesco a calcolare il volume densità dell'olio che cos'è uguale? massa di riso volume incognita che cos'è? il volume giusto o no? no scusate incognita che cos'è? è la massa giusto? basta che io faccia densità verso volume che ho calcolato immaginando la gocciolina sferica e tutto il resto che cosa ottengo? la massa della gocciolina la massa della gocciolina osservo la formula io ho 4 termini 3 li conosco l'unico termine incognito è la carica che cos'è stato capace di fare? con questo in questo modo con molti tentativi è riuscito con molti controlli e verifiche è riuscito a calcolare la quantità piccolissima di carica che l'elettrone possiede avete capito bene o no? è chiaro? quindi ricapitoliamo quello che io chiederò nel compito nel compito io chiederò legge di Lavoisier e legge di Proust bene ragionamento che ha portato al modello atomico di Dalton lo specchietto che non ho più spiegato ma basta che ve lo ripassiate differenze tra confronto massa carica esperimento di Thompson e ragionamento di Thompson banale modello atomico a panettone atomo omogeneo e tutto il resto esperimento di Rutherford vi vedetevi anche il filmato non vi fa male infine dopo l'esperimento di Rutherford dicevo il modello atomico di Rutherford vantaggi e svantaggi velocemente ovviamente se vi ho detto il modello atomico di Rutherford l'esperimento la descrizione dei raggi è alto e tutto il resto come è stato generato il ragionamento in base agli esperimenti come è stato generato il modello atomico planetario in base agli ragionamenti in parte giusti in parte sbagliati aspetti positivi aspetti positivi quali sono? attraverso questo modello atomico si capisce perché le radiazioni penetrano la materia giusto? che cosa abbiamo dentro l'atomo? uno spazio vuoto che è semplicemente enorme in cui le radiazioni possono passare tranquillamente siamo d'accordo? aspetti negativi l'abbiamo visto il fatto che non viene rispettato quello che aveva detto Maxwell sulle cariche elettriche in movimento vi ricordo che quello che aveva detto Maxwell dal punto di vista teorico cioè che le cariche elettriche provocano il movimento accelerato creano delle onde elettromagnetiche che cos'è? non è nient'altro che il principio base su cui si funzionano funziona la radio e su cui funziona la televisione nelle stazioni televisive radiofoniche che cosa si mette? si fanno oscillare delle cariche quindi un tipo di movimento accelerato questa oscillazione di cariche genera queste onde che vanno in giro per il mondo e vengono raccolte dalle antenne le antenne raccolgono queste onde e le trasformano in suoni visioni e tutto il resto avete capito bene? sì o no? benissimo per il compito io direi che avete preparato il tutto ok